Chi portava il Sant'Antonio? Per le case? Per le case no, quelle non li portavano il Sant'Antonio, portavano qualche cartoglietta piccola piccola Ma erano i vecchi che andavano? I vecchi, i vecchi che andavano Andavano alle case? I vecchi, andavano tutte le famiglie E che gli portavano? Niente, andavano, bussavano alla porta e dicevano, Sant'Antonio è arrivato Quando i figuranti di Sant'Antonio portavano i granati alle famiglie ricevevano in cambio prodotti agricoli di vario tipo come salsicce e altro del genere Oggi invece ricevono una piccola offerta Chiediamo al signor Mario che cosa facevano con i soldi che ricevevano in offerta per la festività di Sant'Antonio Dunque, innanzitutto devo precisare che non aspetterebbe a me dare queste spiegazioni perché io sono soltanto un amico del gruppo Alpini In ogni caso, siccome partecipo attivamente a questa attività che veramente è incommiabile sotto ogni punto di vista posso affermare che con il ricavato si fanno soltanto opere di solidarietà Mi spiego meglio Per esempio, l'anno scorso è stato regalato un televisore con videoregistratore agli scolari della scuola materna e della scuola elementare Negli anni passati poi è stata organizzata la Befana Quest'anno in occasione, per esempio, della distribuzione del libro edito della provincia dell'Aquila, la via dei Carrettieri Il gruppo Alpino ha partecipato attivamente nella preparazione del rancio che è stato somministrato a fonte canale e a fonte dall'acqua in occasione del trekking della neviera Quelli di quest'anno, siccome i fondi sono piuttosto esauriti, se tolte le spese di oggi resterà qualche piccola somma o prenderemo qualche iniziativa di beneficenza oppure aspetteremo qualche altro piccolo risparmio e se farà un'altra iniziativa, senz'altro e comunque di carattere sociale Il 17 gennaio si dà spazio all'aspetto religioso della storia La festa, celebrando la Santa Messa in onore del Santo Perché Sant'Antonio viene rappresentato sempre con un maialino? Pare che l'ordine ospedaliero degli Antoniani, nato sul suo esempio, allevasse maiali di cui usava il lardo per la cura di alcune malattie A questa attività probabilmente si lega la protezione del Santo ai maiali Poi estesa anche agli altri animali, dando origine al caratteristico rito popolare che si svolge in questo giorno davanti ai sagrati delle chiese dove vengono radunati gli animali per la benedizione Secondo alcune tradizioni popolari, però, nel maiale deve vedersi il diavolo che, sconfitto da Sant'Antonio, fu da Dio condannato a seguire il Santo sotto questo aspetto A Sicinaro, il 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abbate, si stanno preparando i granati ovvero il gran turco bollito, che veniva definito un po' il cibo povero per i poveri e durante il percorso processionale veniva offerto alle famiglie in segno augurante di ricchezza e di prosperità Abbiamo qui vicino il signor Peppino Bernabèi e gli chiediamo qual era la ricetta dei granati dove veniva preparato e chi lo preparava Dunque, la ricetta dei granati era il gran turco che si metteva a mollo due o tre giorni prima e dopo veniva lessato, cotto con il fuoco Questi granati li preparavano le famiglie che avevano le bestie, le mucche, le pecore, le capre e poi li distribuivano, ognuno li distribuiva al suo avvicinato, a 10-12 persone Questi si mettevano nel piatto quando erano cotto e uno stesso della famiglia, soprattutto i bambini, andavano a portare questi granati nelle case Da chi vengono preparati oggi i granati? Oggi, siccome le bestie non ci sono più, c'è qualcuno che ce l'ha ma non si prende questo fastidio una famiglia sola di farlo allora c'è il gruppo alpino che quasi tutti gli anni provvede a cuocere i granati e li distribuisce alla popolazione Oltre a questo, i granati hanno altro significato? Sì, hanno altro significato perché sempre legandoci alla tradizione popolare e alla religiosità popolare hanno il significato di tenere lontano gli spiriti malefici e l'invidia naturalmente dei vicini di caso, della popolazione Grazie 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 piace l'Abruzzo e sono appassionato degli animali e dell'ambiente diciamo di qui, dei colli dell'Abruzzo Sirente eccetera eccetera è la prima volta che porta a benedire? no, è la seconda volta, è il secondo anno arriverà l'anno prossimo? sì, io sono sempre presente a più che Dio mi dà salute un singolare tratto dell'arcaica società contadina e pastorale che fino agli anni 50 secondo alcune testimonianze sul campo ha segnato il flusso di radicali contesti culturali dove la festa era espressione aggregante intorno a miseria e povertà il calore del fuoco di San Antonio vuole anche risvegliare la terra dai torpori invernali e assicurare abbondanti raccolti per scongiurare i magri tempi di una volta grazie a tutti grazie a tutti